E' partita ufficialmente la stagione dei nidi delle tartarughe marine nel Salernitano e anche quest'anno. Il Cilento si conferma una meta privilegiata. La scorsa estate è stata da record. La prima nidiata di Caretta Caretta è apparsa sul litorale di Ascea Marina. Al lavoro dall'alba una squadra di volontari EMPA che da alcuni giorni si occupa del monitoraggio dell'area, coordinata dalla stazione zoologica Anton Dorn. Siamo stati a fattugliare e a monitorare tutta la costa, quindi ci siamo fatti una quindicina di chilometri al giorno, dalle 5.30 del mattino fino a fine costa. E' stato veramente emozionante perché è veramente il primo e quindi è un'emozione immensa. La volontaria Michela Pisapia nel rivolgere un appello a chi vuole prendere parte ai monitoraggi sui litorali ha poi ricordato cosa fare se ci si imbatte in una tartaruga o in un nido. Quando si trova una tartaruga bisogna evitare flash, evitare luci, bisogna soprattutto mettersi dietro la pace e non avanti. In primis bisogna chiamare, non bisogna toccare le tracce, bisogna chiamare la guardia costiera oppure chiamare noi volontari, ci sono i numeri anche sui social, oppure chiamare il 15.30. E poi aspettare sul luogo l'arrivo dei volontari oppure degli enti.